ed eccoci qui per una nuova ricetta allora ho capito che apprezzate molto di più le ricette iperveloci e sono qui apposta per voi perché anch'io le adoro anche nella preparazione stasera avendo ospiti a cena all'improvviso ho voluto fare un primo molto veloce alla buona ma veramente ottimo allora spaghetti molisana è quello che preferisco prezzemolo fresco uno spicchio d'aglio buccia di limone grattugiata pasta di acciughe o acciughe filetti di alici di acciughe insomma fiori di zucca e servirà l'olio extravergine di oliva adesso vi lascerò alle immagini tanto vi ho già fatto il resoconto e poi con le immagini vi troverete ad hoc pulirò i fiori di zucca e terrò solo la parte morbida farò il soffritto con uno spicchio d'aglio aggiungerò subito la buccia di limone grattugiata e al momento della scolatura degli spaghetti molto al dente aggiungerò fiori di zucca pasta d'acciughe o appunto acciuga in questo caso metterò tutte e due perché sto terminando entrambi vi auguro buona visione e vi faccio vedere la ricetta passo passo buon appetito buon appetito buon appetito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.